I gentili presenti, Naze Carrosa in Saranatale Semmi. Ci siamo chiesti, Natale si festeggia solo una volta all'anno, l'amore nei nostri cuori non può essere saltuario e lo dobbiamo dimostrare. Per noi, Natale, se gli uomini avessero più rispetto per il pianeta Terra, se smettessimo di distruggere le foreste e maltrattare gli animali indifesi. E Natale, se smettessimo di fare le guerre, finché ci sono persone disposte ad aiutare gli altri, è sempre Natale in ogni sorriso di adulto e piccino. Grazie. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.